...aula, riuscire a... No, allora, indipendente, adesso il problema non è quello, il problema è che ci sono 120 erotti subemendamenti e che dubito si possono approvare entro le 1 e 4. Ma il problema è di merito, quindi? Sì, sì, ma non è questo oggetto adesso della discussione. No, io, la mia perplessità rispetto a quel modello presentato è che va bene rinunciare all'elezione diretta, però che almeno l'elezione diretta sia una vera elezione e non una cosa fatta già a tavolino, come rischia invece di essere.